Mi hanno girato un articolo però di un giornalista, o meglio un personaggio pubblico, perché così mi hanno detto che si definisce, un certo Paolo Esposito, se non va errato, che ha rilasciato delle dichiarazioni su un'intervista, parlando, e la cosa che mi dà fastidio è che si è permesso di parlare, io non voglio fare polemica con lui, però voglio puntualizzare delle cose, Ha detto, intanto si è permesso di parlare della vittoria della Salernitana a Venezia, rubata, l'arbitro, ed è una cosa di pessimo gusto, specialmente se uno fa il giornalista e tra le altre cose si definisce anche personaggio pubblico, non credo che sia elegante e carino entrare nelle vicissitudini di una squadra che comunque è andata a Venezia, ha vinto la partita e secondo me l'ha vinta merita la mente, e questa è stata una caduta di stile, Non entro in merito neanche agli sfottori che chiaramente ci sono, e questo è un derby tra napoletani e salernitani, ci mancherebbe, con quello fa parte del gioco, però volevo puntualizzare questa cosa, poi ne ha detto anche in alta che non mi è piaciuta, i tifosotti da salernitana, è brutto, noi i tifosotti nostri, i nostri tifosotti domani vengono un 6.000, domani dopo domani vengono un 6.000 a Roma, quindi tanto tifosotti non so, tutto gli si può dire tranne che tifosotti, noi tra le altre cose, ne parlavo anche con qualcuno della squadra, siamo orgogliosi di difendere questi colori e di rappresentare questi tifosotti che ripeto che domani torneranno, lo ripeto, arriveranno in 6.000 a Roma, non so quante tifoserie possono permettersi e vantarsi di portare 6.000 persone in trasferta a Roma piuttosto che, quindi mi è dispiaciuto, nessuna polemica, volevo solo chiarire questi due concetti, la prima è del risultato, non è elegante entrare in merito nelle vittorie altrui, poi ha fatto anche dei paragoni Napoli con Salerno, secondo me il piccolo areghi, ma quello neanche voglio considerare, voglio puntualizzare queste due cose, noi a Venezia la partita ce la siamo sudata.